Grazie, ringrazio intanto gli organizzatori del convegno, l'Accademia per l'invito ad essere qui, in particolare vorrei ringraziare Vincenzo Barone per avermi convinto alla fine ad accettare l'invito a parlare di questo argomento, che è un argomento di cui ci siamo occupati in epoche antidiluviane, Max Abram è stata una scoperta dal punto di vista del suo impatto in Italia che risale ormai a 40 anni fa e io non ho cose particolarmente originali da dire sull'argomento rispetto a quelle che sono note, però mi è sembrato alla fine che non fosse del tutto fuori luogo rivisitare questa storia, lo piccolo pezzetto relativa alla personalità di Abram, in questo contesto in cui parliamo più in generale di Einstein, d'Italia alla ricezione delle idee e dei contributi scientifici legati alla relatività nel nostro paese, perché sicuramente è chiaro che oggi, col segno di poi il contributo di Abram alla fisica e le sue idee sullo spazio, il tempo, la gravitazione, ci appaiono degli onorevoli reperti archeologici depositati dalla storia, nella cassetto delle idee che tendiamo a definire, fate voi, sbagliate, che non hanno portato da nessuna parte, che non hanno lasciato una traccia rilevante nella conoscenza scientifica, ma sicuramente allora il periodo italiano in particolare di Max Abram ha segnato un tassello importante nella ricezione in generale nell'interno della comunità scientifica italiana e della problematica che poi va a sfociare nel 1915 nella relatività generale e quindi non è soltanto una polemica scientifica, è anche proprio una rivisitazione del clima che si respirava negli ambienti scientifici italiani rispetto a questo tipo di problematica scientifica che era in divenire, in divenire molto rapido e molto controverso. E un'ultima asservazione ancora sul titolo, in realtà non è del tutto corretto parlare di una sofferta convivenza, lì ho messo insieme due cose diverse, in realtà il periodo italiano di Max Abram è stato molto probabilmente il periodo più felice della sua esistenza terrena, la sofferenza arriva alla fine a rompere in maniera drammatica quella che era stata invece una convivenza dieta. Rapidissimamente, come si va avanti con questo? Ok, Abram è tedesco, nasce a Danzig, è un poco più, 4 anni più anziano o meno giovane se volete, di Albert Einstein, studia in Germania, prende il dottorato in fisica a Berlino con Planca nel 97, per 5-6 anni è private docent a Gottinga e sono quelli gli anni in cui probabilmente la sua produttività scientifica raggiunge livelli più elevati, sono quelli in cui Abram si impone internazionalmente come uno dei teorici più brillanti per quanto riguarda il terreno, diciamo delle teorie elettromagnetiche in generale e in particolare la discussione che è una delle frontiere della ricerca in fisica teorica e sperimentale all'epoca, il problema della dinamica dell'elettrone, la massa elettromagnetica e quanto tutto ciò ha a che vedere poi con la costruzione di quella che diventa nel 1905 la relatività ristretta dalla parte di Einstein, questo tipo di cose. Ciò nonostante non riesce a fare la carriera accademica che ci si aspetterebbe facesse un giovane brillante teorico come lui, nel 1908 fa una infelicissima esperienza, passa, accetta per un semestre di andare a insegnare all'Università dell'Illinois, poi ne rientra traumatizzato dall'ambiente scientifico, assai poco stimolante da una parte e dall'eccessivo carico di dati, di fatto si tratta di una teaching university in cui gli si chiede sostanzialmente solo di fare un carico spropositato di attività didattica e gli manca completamente lo stimolo intellettuale in un ambiente scientifico invece vivace, quindi torna in Europa e approda in Italia, alla fine, all'inizio dell'anno accademico 1909-10, come professore straordinario vince il concorso alla cattedra di meccanica razionale del Politecnico, meglio dell'Istituto Tecnico Superiore, come ancora si chiamava, a Milano. Oltre ai suoi contributi di ricerca sul problema in particolare della dinamica dell'elettrone, Abram è già famoso all'epoca per, qui c'è la prima nota in qualche senso di ironia della storia di questa vicenda, Abram è l'autore nel 1904-5, pubblica in due volumi questo monumentale trattato, ponderoso trattato sull'elettromagnetismo classico, sulle teorie dell'elettricità, il primo volume è l'adattamento di una vecchia, una precedente dispensa o poco più di Albert Feupe, il secondo volume è completamente opera del giovane Abram, dopo questo trattato ha cinque edizioni fino al 1922, anno in cui Abram muore e poi viene ripreso da Becker, finché diventa il Becker, cioè il manuale di elettromagnetismo standard su cui si è studiata l'elettromagnetismo classico e la relatività, almeno la relatività ristretta, per lungo tempo, finché non sono poi apparsi manuali diciamo più moderni. L'ironia della storia, se volete, è che praticamente generazioni di studenti di fisica hanno imparato la relatività studiandola su un manuale che era la riscrittura dell'originale testo prodotto dal più acerrimo e competente avversario della relatività, che era per l'appunto Max Abram. La ragione per cui Abram alla fine arriva in Italia, perché in Germania non riesce a trovare una collocazione accademica, è raccontata e detta in vari luoghi, in particolare interessante questa lettera inviata da Levi Civita, non si sa esattamente a chi, sicuramente a Torino, quindi poteva essere verosimilmente a Segre o somigliano del destinatario, nel 1909 in cui Levi Civita, che come vedremo già conosceva personalmente Abram dall'anno precedente, racconta di aver saputo da colleghi tedeschi che se Abram non era riuscito a fare carriera in Germania è perché era uno, come si dice a Roma, che non la mandava a dire a nessuno. Era un carattere particolarmente spigoloso, molto brillante, ma con una lingua altrettanto pungente e si era in particolare inimicato per avere spesso giudizi molto poco lusinghieri sulle loro qualità scientifiche, buona parte soprattutto della potente, quella che lui chiama cricca accademica di Gottinga, per cui il boicottaggio nei suoi confronti in Germania era stato efficace. È interessante l'aggiunta di Levi Civita sul fatto che a questa caratteristica, come dire, di individuale polemica sia forse verosimilmente aggiunto un antisemitismo diffuso, sono le prime tracce, siamo nel 1908 comunque. Comunque questa lettera è del 1909 e viene dopo che Levi Civita ha incontrato Abram, però intanto cito alcuni pezzi del testo della relazione della commissione giudicatrice del concorso per la caratteristica di meccanica razionale al Politecnico, vedete noi a parte Formenti insomma è una bella commissione, ci sono Levi Civita, Maggi, Somigliana e Volterra, cioè il fiorfiore della fisica matematica italiana dell'epoca. Non sto a leggere, potete vedere insomma il giudizio su Abram è largamente elogiativo, nettamente al di sopra dei giudizi pure positivi che vengono espressi nei confronti degli altri concorrenti, tra i quali c'è un altro non italiano, Ludwig Silberstein, all'epoca la legislazione universitaria consentiva tranquillamente a non cittadini italiani di concorrere e vincere un posto a caratteristica nelle industrie italiane, concorrente eccezionale, è già venuto in alta e meritata fama per le sue importanti scoperte, c'è un particolare riferimento al suo trattato di elettromagnetismo giudicato come una sintesi mirabilmente lucida di tutto quel campo di studi. Chi scrive materialmente queste righe è il segretario della commissione che è per l'appunto Tullio Levi Civita e Levi Civita conosceva già, scusate, Abram, che era tra i pochi che con competenza scientifica si interessava all'epoca a tutto il dibattito in corso sul problema della massa elettromagnetica, della nuova meccanica, della fondazione elettromagnetica, della meccanica, della dinamica dell'elettrone e che aveva scritto su questo un eccellente lavoro di rassegna critica sul secondo numero sempre del 1907 della neonata rivista di scienza e quindi è perfettamente a conoscenza dei contributi di Abram in questo settore, lo contatta un anno prima del quarto congresso internazionale dei matematici che si sarebbe tenuto a Roma nell'aprile del 1908, gli scrive a febbraio del 1907 invitandolo per l'appunto a partecipare al convegno e qualora fosse disponibile a presentare al convegno per l'appunto una comunicazione, una relazione sulle sue brillanti ricerche sul terreno appunto della dinamica dell'elettrone e in generale della problematica aperta alle frontiere delle ricerche sul fenomeno elettromagnetici. Non è noto, perché abbiamo soltanto questo citazione, ma non è chiaro, Abram comunque risponde a Levi Civita dicendo, accettando l'invito ad andare a Bologna, ma esprimendo le perplessità sulla opportunità di impegnarsi in quel momento a fare una relazione sul problema della dinamica dell'elettrone e dei dintorni, perché la situazione nell'ambito di ricerca è estremamente fluida, io stesso ci sto lavorando sopra e quindi è opportuno non impegnarsi e faccio altri, di fatto credo che anche se non sono riuscito a mettere le mani sugli atti del secondo, mi sembra, volume del convegno in cui sono riportate le relazioni di fisica e matematica, Abram presenta di fatto una relazione su qualche questione di idrodinamica. Infatti siamo nel 1907-1908, poi nel 1909 Levi Civita è verosimilmente, anche se questa cosa non è documentata, colui che suggerisce ad Abram di concorrere alla cattedra del Politecnico, perché è palesemente la sua sponda accademica, oltre che scientifica e amicale a un certo punto, perché tra i due si stabilisce un vero rapporto di amicizia in Italia. L'osservazione di Abram era assolutamente pertinente, tra il 1906-1909 la situazione teorica e sperimentale per quanto riguarda la questione della dinamica dell'elettrone, che poi è strettamente connessa alla discussione sul principio di relatività, sui fondamenti dell'elettromagnetismo eccetera, è di una situazione di fluidità, le carte sul tavolo cambiano da un mese all'altro. Quando Corbino scrive il primo numero di rivista di scienza, questa altra eccellente presentazione dello stato dell'arte in materia dell'elettromagnetismo, il moto assoluto, la dinamica dell'elettrone, sembra che la situazione dal punto di vista dell'evidenza empirica, anche se non conferma definitivamente la teoria di Abram, sembra però essersi espressa in maniera conclusiva contro quella che ancora viene chiamata, che Corbino chiama la teoria di Lorenz e che altri chiamano in Germania la teoria di Lorenz Einstein, che tra l'altro un'idea, perché queste sono cose note, di come ancora all'epoca la percezione delle differenze profonde invece tra la teoria di Lorenz e la proposta teorica di Einstein del 1905 non fossero percepite per quello che effettivamente erano, c'è una situazione estremamente confusa, è noto che poi gli esperimenti di Kaufman vengono discussi sottoposti a revisione critica, ci si mette Planck, c'è tutto un dibattito su cui l'anno successivo l'esperienza viene ripetuta da Bucherer, poi intervengono altri e a questo punto sembra che invece sia la formula ottenuta da Kauf, da Abram che è poco compatibile con i dati esperimenti, di fatto la situazione è fluida e non risolta e di questa situazione fluida e non risolta ci sono tracce in quello che negli anni successivi, nei pochi anni tra il 1906-1907 e il 1910-1911 dicono sull'argomento i non numerosissimi fisici e matematici italiani come Corbino e Levi Civita, sono sicuramente i due più rappresentativi che di questa questione si occupano e che ne riportano. Tra l'altro è bene ricordare che in particolare Corbino era attento a questo tipo di problematica perché nel momento in cui arriva a Roma nel 1908 a sostituire Alfonso Sella sulla cattedra di fisica complementare viene immediatamente incaricato da Volterra, come tutti sanno è un matematico ma come non tutti sanno è il fondatore della società italiana di fisica ed è uno di quelli che segue le vicende della fisica teorica contemporanea, del COEVA, di caricarsi della rivista del nuovo cimento, cioè quel settore della pubblicazione scientifica principe della fisica matematica italiana in cui vengono riportati per i lettori italiani sunti e estratti dei principali contributi che vengono pubblicati all'estero e quindi Corbino è una persona che ha la sensibilità scientifica e anche il compito istituzionale di seguire in particolare attenzione ciò che avviene anche all'estero e una prova ne è questo lavoro su scienza. Pochi anni dopo, sempre Corbino, in una minuta di relazione che si trova dentro il carteggio scambiato con Volterra, quindi non è neanche datata ma verosimilmente da quello che si dice deve essere nella fine del 1910 o inizio del 1911, mostra che chiaramente Abram avesse ragione, la situazione è fluida, a questo punto invece pare che sperimentalmente la questione sia risoluta in favore del principio di relatività o perlomeno contro le formule di Abram, quindi la situazione sperimentale pare cambiata, in realtà non era decisivo neanche questo momento della cosa, ma è interessante anche come questi passaggi e quello successivo che si vede sotto nella lettera che Corbino scrive a Volterra, mostrino come da parte di un personaggio come Corbino, e si potrebbero citare altri esempi, la percezione di quello che sta succedendo in questo settore di ricerca cambia e si raffiglia nel tempo. Corbino che nel 1907 chiama Tukur la teoria di Lorenz, adesso parla del principio di relatività che in realtà fa riferimento piuttosto a Poincaré se vogliamo, ma comunque lui già sa che Einstein è qualcuno che ha fatto qualcosa di innovativo e questa cosa si vede molto bene, questo è un inciso un po' laterale rispetto a Abram, è interessante secondo me, a metà del 1912 come no Poincaré muore, Volterra prepara un bellissimo testo di commemorazione di Poincaré e significativamente lo manda a Corbino perché Corbino gli faccia le pulci per quanto riguarda la parte di fisica e Corbino è estremamente chiaro nel libro, guarda questa cosa di dire che le ricerche di Poincaré hanno joué un grand role nello sviluppo successivo, è un po' troppo francamente, lì il problema è che in realtà la novità è arrivata con il contributo di Einstein e è da lì in poi che sono cominciate le cose nuove. Quindi ho voluto mettere soltanto queste citazioni corbiniane perché mi sembra che sia un indicativo di una cosa che dovremmo tenere, e su questo c'è del nuovo rispetto alle cose che ci raccontavamo 40 anni fa. L'atteggiamento, i punti di vista, la percezione delle novità che avvengono all'estero nella nostra comunità scientifica è un po' più raffinata di quanto non si dicesse una volta per cui l'Italia era un paese fondamentalmente arretrato di fisici sperimentali che non ne volevano sentir parlare di novità, di relatività perché erano attaccati ingenuamente all'etere e di fisici matematici che facevano la fisica matematica dell'Ottocento e che quindi non capivano niente delle novità e anche del nuovo linguaggio che si stava affermando nella fisica teorica d'Oltralpe. La situazione è in realtà un po' più interessante, è molto più fluida e quindi certi giudizi molto perentori che sono stati dati sulla recezione della relatività in Italia tanto tempo fa quando si è cominciato ad occuparsi di questi problemi andrebbero quanto meno sfumati. Max Born e Max von Laue sono gli autori della più bella biografia, è un obitua riscritto nel 1922 alla morte di Abraham e è interessante in questo passaggio della loro biografia il riferimento al fatto che Abraham è stimato e onorato quando arriva in Italia e ha sempre avuto un cordiale sentimento di gratitudine nei confronti della sua nuova patria. E poi c'è un riferimento semi scherzoso al carattere spigoloso per l'appunto di Abraham che avrebbe risposto a un collega che gli chiedeva come si trovava a Milano magnificamente ancora non parlo abbastanza bene la lingua, non sono ancora in grado o non trattarli come faccio. Ora questa è una battuta, poco più che una battuta, però non è del tutto priva di interesse perché la conferma di Abraham da straordinario a ordinario che dovrebbe avvenire e di fatto la commissione si giudisce nell'ottobre 1912 a tre anni, dopo i tre anni di straordinariato, è molto spesso però indicata avvenire nel 1913 e la ragione è che alcuni membri della commissione giudicatrice per la promozione a ordinario, nessuno aveva alcun dubbio sulla validità scientifica della produzione di Abraham ma qualcuno aveva espresso dei dubbi sulla efficacia didattica delle sue lezioni perché correva voce che il suo italiano non fosse sufficientemente chiaro e quindi qualcuno chiede un supplemento di indagine su questo punto particolare per cui di fatto la conferma definitiva avviene nel 1913 e ancora Levi Civita che scrive la relazione con cui Abraham viene confermato nel suo posto di professore a Milano e appunto dice la geniale produttività dell'Abra non si è arrestata dopo la nomina straordinario e facendo riferimento alle ultime attività, agli ultimi contributi di Einstein, di Abraham del 1911-12 quindi quelli fatti durante il triennio di straordinariato, è interessante questa valutazione di Levi Civita è una delle prime valutazioni di fatto delle firmate Levi Civita anche se è anonima perché è la relazione della commissione in cui si vede come Levi Civita fosse al tempo stesso molto attento a quello che stava succedendo sui settori ma anche molto cauto nell'esprimersi sulle innovazioni. Plausibili ipotesi direttamente innestate sulle concezioni abituali della meccanica classica sostituiscono le più artificiose suggestioni relativistiche. Ci si sta riferendo a quell'esplosione di fatto di produzioni, di lavori scientifici sul problema della nuova teoria della gravitazione per Abraham o dell'estensione del principio di relatività ai campi gravitazionali Einstein si avvengono tra il 1911 e il 1912. In realtà la cosa ha un inizio già nel 1900, per quanto riguarda Einstein, già nel lavoro di rassegna ponderoso che lui scrive alla fine del 1907 per lo Jahrbuch, Radioactivität und Electronics, sul principio di relatività e le conseguenze che ne derivano. È molto citato, è una rassegna dello stato dell'arte per quanto riguarda quella che noi chiamiamo la relatività ristretta, ma la cosa interessante è che nell'ultima sezione di questo lavoro Einstein apre al problema dell'estensione della relatività alla questione della gravitazione e sia pure in maniera semplicemente abbozzata, non ci sono risultati forti da portare, ma verso dove si vuole andare è estremamente chiaro, in particolare nei due paragrafi in cui si parla esplicitamente di influsso del campo di gravitazione sugli orologi. la prima idea è che se vogliamo inserire la gravità dentro le proprietà dello spazio-tempo estendendo il principio di relatività, allora questo stabilisce qualche connessione tra il tempo, che già in relatività ristretta ha subito le sue brave modifiche, e la presenza di un campo gravitazionale, quindi l'idea abbozzata che la gravitazione qualora si riuscisse ad andare nella direzione di un'estensione della teoria potrebbe avere un'influenza sulle proprietà della misura del tempo e l'altra cosa, influenza della gravità sugli fenomeni elettromagnetici in generale, in particolare è abbozzata l'idea che poi viene ripresa però più tardi, quindi l'influenza eventuale della gravità sulla propagazione della radiazione elettromagnetica e quindi insomma il problema della deflessione della luce in un campo gravitazionale. C'è già tutta in luce l'idea che porterà poi otto anni più tardi alla formulazione della relatività generale nella sua festa definitiva. E' anche interessante il fatto che per tre anni non se ne fa di nulla, questo rimane l'ultimo capitolo del lavoro di Einstein della fine del 1907, di fatto poi per tutta una serie di ragioni che sono state anche studiate, Einstein non torna sull'argomento per tre o quattro anni, è nel 1911 che questa problematica riemerge, i motivi sono tanti, sono stati addotti un po' per il fatto che in quegli anni Einstein praticamente ogni sei mesi cambia collocazione accademica, se ne va prima da Zurigo, poi va a Praga, poi torna a Zurigo, quello chiamano a Berlino l'Accademia delle Scienze, ma poi soprattutto perché in quel periodo apparentemente la tematica scientifica su cui concentra la sua attenzione è piuttosto quella della teoria della nascente, teoria dei quanti, ci sono i lavori di meccanica statistica sull'opalescenza critica, pensa ad altro, ma evidentemente il problema sta lì e tra l'11 e il 12 vengono pubblicati da Einstein e da Abraham e qui è difficile vedere esattamente la sequenza perché ovviamente le date di pubblicazione sulle riviste non conciliano con le date affettive di produzione dei lavori che si scambiano e quindi c'è un'interazione continua tra i due, lavori che hanno a che vedere comunque col problema, sono il prodromo di quella che sarà poi la relatività generale, il problema di costruire una teoria della gravitazione. Per Abraham il problema è quello di costruire una teoria della gravitazione sul modello della teoria del campo elettromagnetico, Abraham ha la teoria elettromagnetica come riferimento scientifico e ideale a cui ispirare tutto il resto, negli anni precedenti era stato il principale esponente di un programma di ricerca che poi si arena, ma che comunque è importante nel primo decennio del Novecento, di un tentativo di riduzione integrale dell'intera fisica all'elettromagnetismo e tutto il lavoro sulla massa elettromagnetica va esattamente in questa direzione e in questo contesto Abraham continua e continuerà fino alla fine a sostenere che l'idea di lavorare sulle proprietà del campo è indissolubilmente connessa all'idea che debba esistere una qualche forma di supporto per il campo che altrimenti è un'entità di cui si perde consistenza e non ha senso parlare e quindi l'etere luminifero di cui Einstein decreta la non necessità già nel lavoro del 1905 diventa il terreno su cui viceversa Abraham è ferocemente ostile alla relatività e a qualunque idea e progetto di ricerca come quello di Einstein a partire dal 1911 di estendere alla gravità, di incorporare in una teoria che si fondi filosoficamente, lo dirà a un certo punto, sul principio di relatività anche la gravitazione. I due si conoscono benissimo, tra l'altro a parte le cose ferocissime che Abraham scrive sul conto della teoria di Einstein, in realtà si stimano moltissimo reciprocamente. Einstein aveva una grande stima, lo vedremo, della capacità critica di Abraham. Oltre ai lavori pubblicati sulle riviste per gli addetti ai lavori, Abraham in particolare in quegli anni tiene due conferenze che sono pubblicate sul Nuovo Cimento, ci si rivolgono quindi a un pubblico un po' più ampio, c'è questa lettera di Corbino a Volterra, Volterra all'inizio del 12 era da qualche parte in giro per il mondo, non so certamente dove, e Corbino gli racconta la nostra sezione della Società Italiana di Fisica sta facendo delle belle conferenze, abbiamo avuto una bella comunicazione di Abraham sulle onde di gravità. Credo che sia la prima volta che vengono menzionate esplicitamente la possibilità dell'esistenza, anzi che viene sostenuta l'esistenza di, la parola onde gravitazionali compare nella letteratura scientifica ed è infatti il titolo del lavoro che poi Abraham pubblica sul Nuovo Cimento, ma che è esattamente il testo della conferenza che ha tenuto a Roma pochi giorni prima, sulle onde luminose gravitazionali e in cui a quel punto lui fa esplicito riferimento ai contributi, ai primi lavori di Einstein del 1911, pubblicati all'inizio del 12, è quello che è molto divertente in qualche senso, la storia è molto molto complicata, è tecnicamente difficile da ricostruire, ma è interessante il fatto che, lo vedremo più avanti, è citato lo dicevo esplicitamente, Abraham considera la cosa più felice dei lavori di Einstein l'idea di sostenere che in presenza di un campo gravitazionale la velocità della luce diventa una funzione del potenziale gravitazionale. Lui chiama questa cosa un'idea felice perché per lui questa cosa significa che lo stesso Einstein ha dato la zappa sui piedi alla sua teoria della relatività ristretta che si fonda su due postulati, il secondo dei quali è per l'appunto la costanza della velocità della luce. È lo stesso Einstein che dice che questa cosa non può stare in piedi e lui è tutto contento di questa che lui vede come un'ammissione da parte di Einstein di una inconsistenza interna grave della propria teoria originaria. Il punto di vista di Abraham tramonta il cosiddetto postulato della costanza della velocità della luce e d'altronde vediamo e qui sostanzialmente la parola etere non c'è, ma è di questo che si sta parlando, il fatto che, e i primi lavori di Einstein confermano questa cosa, il linguaggio formale con cui si può provare a incorporare nella teoria della relatività un campo gravitazionale statico ancora ancora riusciamo a farlo, ma appena passiamo a situazioni in cui il campo, ci sono sistemi di riferimento in traslazione, in rotazione, si incorre in difficoltà linguistiche, in senso matematiche che traducono però l'inconsistenza fisica della teoria, possiamo di nuovo invocare, riferendoci al campo gravitazionale statico che è un caso particolare, l'idea di un sistema di riferimento assoluto, sia pure, come dice Abraham, in questo caso i concetti di assoluto e relativo si fondono in un insieme superiore. Questa cosa torna verso la fine del 1912, il confronto fra i due diventa un confronto diretto, ci sono quattro scambi di brevi note sugli annali del physique, comincia Abraham facendo delle critiche, esprimendo una critica, una stroncatura sostanzialmente, dei lavori, dei tentativi iniziali di Einstein dell'11, inizio 12, di formulare una teoria del campo gravitazionale coerente in cui si è incorporato del principio di relatività, in cui ribadisce appunto che viceversa una concezione relativistica dello spazio-tempo io non ne voglio sentire parlare, siccome fra tutti i sistemi di riferimento e Einstein stesso lo ammette a questo punto della discussione, quelli in cui si possono distinguere quelli in cui il campo gravitazionale è statico, allora abbiamo qui la ragione fisica per chiamare assoluto, in modo riferito a uno di questi sistemi e quindi a richiamare in vita il bistrattato etere, mentre diventa un dibattito tra sordi in qualche senso, Einstein sa benissimo che le critiche di Abraham alle inconsistenze matematiche e anche concettuali dei suoi primi tentativi di avere una teoria di realizzazione sono assolutamente fondate, tra l'altro Einstein ha sempre riconosciuto che dal punto di vista del controllo del linguaggio formale, della matematica, Abraham gli era superiore, era capacissimo di individuare i punti in cui la sua teoria falliva, ma mantiene fortissimo il nucleo fondamentale del programma di ricerca, sono gli anni in cui comincia a elaborare sulla base del principio di equivalenza, lui dice, ho dimenticato di dirla, ma deve essere stata una cosa che dentro la sua testa ha lavorato per tutto il periodo tra il 1907 e il 1911 e che poi comincia a tradursi in produzione scientifica in questo periodo, lui racconta come nel 1907 abbia avuto quella che mi, lo dice lui, non ricordo la situazione esatta, l'idea più felice di tutta la mia vita, quando stando a riflettere su problemi scientifici ho capito cosa voleva dire il fatto che una persona in caduta libera non sente il proprio peso e che quindi ha un senso fisico profondo identificare un sistema di riferimento in modo accelerato e un campo gravitazionale, è la stessa cosa, quindi spazio, tempo e gravitazione devono in qualche modo riuscire a stare insieme, naturalmente questa è all'inizio un'idea fulgurante che poi diventa materia di riflessione successiva e Einstein lo dice palesemente nella sua risposta ad Abram, che non è una risposta tecnica, perché sul piano tecnico Abram ha ragione, le teorie dell'11 non stanno in piedi da un punto di vista formale, sono inconsistenti, ci sono difficoltà, ma quello che gli importa a Einstein è il principio di equivalenza a questo punto, la prospettiva interessante secondo cui, lo dico in un altro modo ma potete leggerlo lì dovremmo riuscire, dobbiamo puntare a formulare una teoria generale in cui le equazioni generali che descrivono i problemi fisici siano covarianti per qualunque trasformazione di sistema di riferimento, in cui la distinzione tra sistemi di riferimento inerziali e non inerziali perde senso nel momento in cui mettiamo la gravitazione dentro all'apparato teorico. La cosa interessante è che però Einstein ammette esplicitamente, è un problema maledettamente difficile, faccio appello a ogni collega per cercare di risolvere questo difficile problema, Abram ha buon gioco a dire ma di che stiamo a parlare? Ti sei imbarcato dentro un programma di ricerca che è palesemente inconsistente ed istituito di fondamento e poi siccome non riesci a farlo chiedi appello ai tuoi colleghi perché sai che comunque loro ti risolveranno i problemi, è una stroncatura anche piuttosto, non piuttosto, senza piuttosto, decisamente cattiva a cui Einstein neanche risponde e taglia lì il dibattito dicendo vabbè ci siamo detti tutto quello che c'era da dire e lasciamo perdere. E questo è un altro lavoro di Abram sempre di questo periodo in cui fa riferimento appunto alla felice idea di Einstein che esista una relazione funzionale tra potenziale e gravità gravitazionale e velocità della luce e appunto per lui l'idea di Einstein è felice perché smantella uno dei cardini della teoria della relatività ristretta che è quella contro cui lui si è battuto dal momento in cui è comparsa il principio di relatività insomma fino a... contestualmente Einstein non scrive cattiverie del genere di quelle che scrive Abram sull'analender physique però quando scrive agli amici e ai colleghi si esprime in termini in un'altra età non dissimilmente come dire poco cordiali nei confronti della teoria di Abram è bravo non c'è dubbio farà pure corretta da un punto di vista logico la sua teoria ma è una imbarazzante mostruosità ed è una mostruosità perché insiste e questo è il punto di vista ovviamente Einsteiniano nel cercare di mantenere in vita una mostruosità che è quella della possibilità in linea di principio di pensare e poi di costruirci sopra una teoria fisica a un sistema di riferimento privilegiato che è esattamente la cosa che Einstein intende invece smantellare in modo definitivo estendendo la cosa ai sistemi non inerziali. In tutta questo dibattito in cui cominciano a apparire le primi tentativi di teorie di gravitazione Abram in Italia ci sta come si dice come un topo nel formaggio l'ambiente scientifico italiano sia pure con tutte le cautele con cui ho detto prima è largamente molto più in sintonia col punto di vista di Abram che con le prospettive abbiamo visto come anche un Levi Civita che pure poi è Levi Civita e farà le cose che farà per la relatività si guarda bene dal prendere una posizione molto netta in favore, anzi dichiara che le artificiose suggestioni relativistiche è meglio lasciarle perdere e stare sul sanno terreno di una estensione prudente dei sani concetti della meccanica classica. Abram in particolare interagisce con l'ambiente di quei pochi fisici sperimentali italiani che stavano ancora lavorando e continueranno a lavorare a lungo ai tentativi di invalidare la relatività ristretta mostrando come non regga da un punto di vista empirico, da un punto di vista sperimentale l'idea della costanza della velocità della luce, la rosa è uno di quelli che dà i contributi più interessanti, tutti negativi ma interessanti in questa direzione e Abram è ovviamente in sintonia con la rosa e ci sono qui le citazioni perché si fa difensore del povero e calunniato etere che invece sarebbe il caso di mantenere in vita e questa è la seconda conferenza del 12 che di nuovo viene pubblicata sul nuovo cimento, di nuovo dichiara che la teoria della relatività dell'Einstein, quella del 1905 è tramontata perché abbiamo dichiarato, Einstein è d'accordo, che la velocità, il secondo postulato della teoria in realtà non tiene. 10 minuti, benissimo. E poi la domanda retorica, torneremo allo spazio assoluto e richiameremo l'etere affinché si incarichi di portare oltre al campo elettromagnetico anche il campo gravitazionale, questa è la prospettiva in cui non si muove. Non ci sono altri contributi diretti, che io sappia, di Abram sulla questione, tecnici diciamo, nel frattempo succede che c'è la svolta fondamentale, una delle svolte fondamentali nel programma di ricerca di Einstein tra la fine del 12 e il 1913, quando cioè Einstein si rende conto che per dire in maniera pulita l'idea che ha in testa deve cambiare linguaggio, deve passare alle geometrie non equidee, questo avviene verso la fine del 1912, la storia è nota ed è complicata ma ampiamente raccontata, quindi Einstein sente la necessità di rivolgersi a qualcuno che padroneggi questo linguaggio, nasce la collaborazione con Marcel Grossman e alla fine del 13 esce il primo abbozzo di teoria della relatività generale in cui si usa il linguaggio tensoriale a questo punto, dovuto appunto all'interazione con Grossman, ma ancora come è noto la teoria non funziona, ha dei bachi ancora consistenti e Abram è bravissimo a cogliere questo fatto, nel 1914 esce di nuovo uno scambio polemico innescato da questo articolo di Abram su scienze a cui risponde poi Einstein e a cui fa di nuovo replica nuovamente Abram, in cui Abram a questo punto prende di mira l'ultimo prodotto del progetto di ricerca in straniano, cioè il lavoro con Marcel Grossman che nel frattempo è uscito e fa notare come dal suo punto di vista quello che si sta cercando di fare indipendentemente dal fatto che non funziona dal punto di vista tecnico formale, perché la matematica è carente su una serie di problemi, ma è la conseguenza del fatto che si sta cercando di perseguire un programma di ricerca innaturale e contro natura, perché da una parte si vorrebbe estendere universalmente il principio di relatività e dall'altra però lo si vuole fare costruendo una teoria di campo che presuppone per poter essere sviluppata l'esistenza di un riferimento privilegiato nel quale ha senso descrivere l'oggetto fisico di cui si parla. E questo disaccordo interiore come dice Abram porta con se stesso un germe di dissoluzione, ma poi le immagini retoriche sono anche divertenti da leggere, finché ci si limitava a considerare unicamente moti, rettiline e uniformi, questo compromesso poteva ancora funzionare, però appena si tenta di estendere la teoria, questa unione contro natura è destinata ad essere vanificata. E di nuovo la replica di… ah scusate, qui sostanzialmente vi dice la stessa cosa, adesso il tempo insiste sulla necessità di mantenere in vita in qualche maniera insomma il concetto di un sistema di riferimento privilegiato che è quello che i partigiani, i partigiani li chiamano, della teoria della relatività vorrebbero eliminare, perché non hanno come dire dal punto di vista di Abram l'onestà intellettuale di riconoscere che invece questo strumento è necessario perché si possa parlare di campo, perché il postulato della teoria sulla velocità della luce si regge sulle proprietà di propagazione di un'onda elettromagnetica, cioè sulle oscillazioni, al vecchio argomento in difesa dell'etere insomma. Sempre dall'articolo di Abram su scienze, il primo articolo, quindi gli autori, a questo punto gli autori stanno facendo riferimento per l'appunto all'entwurf Einstein-Grossman, stabiliscono una trasformazione qualsiasi, ma non funziona perché le equazioni, e lì nota un difetto effettivamente di quel lavoro, le equazioni non sono generalmente invarianti rispetto a questa trasformazione generale nello spazio del tempo, non ci si fa e di nuovo l'argomento è non ci riescono perché è un programma che non può essere perseguito perché è carente nei suoi fondamenti, è carente nel senso proprio contraddittorio nei suoi fondamenti. Generosamente accetta di lasciare ai tentativi di Einstein della relatività un posto per quanto riguarda almeno le riflessioni critiche sui concetti di spazio e tempo e quindi la relatività può essere onorevolmente sepolta. Einstein naturalmente risponde, ma non risponde a nessuna delle obiezioni tecniche di Abram perché ancora una volta sa che Abram ha colto nel segno, è vero che il lavoro dell'entwurf è carente dal punto di vista matematico, è vero che non sono riusciti ancora a dare la descrizione, la formulazione generalmente covariante delle equazioni di campo e quindi da quel punto di vista Einstein ignora completamente le obiezioni di Abram e si inimita invece a sposare e a ribadire quello che lui chiama, e qui è interessante ovviamente nell'accezione di filosofico di cui si parlava, l'Arbia di cui si parlava ieri, perché sto cercando di fare quello che sto cercando di fare? Perché fondamentalmente la meccanica classica e anche la relatività ristretta hanno un difetto fondamentale che è impossibile negare se si è aperti agli argomenti filosofici e l'argomento filosofico è il dibattito che poi ha in Mach, il suo esponente, della critica della inconsistenza e del vizio circolare che è implicito nel tentativo di dare un fondamento in qualche senso ontologico alla distinzione tra sistemi inerziali e sistemi non inerziali, è il vecchio problema di che cos'è un sistema inerziale e Einstein lo riprende sottolineando l'importanza di Mach nella sua critica della meccanica newtoniana, perché per l'appunto esattamente come per la velocità quando nasce la meccanica moderna, ma anche le accelerazioni di un corpo sono in realtà solo accelerazioni di corpi in rapporto ad altri corpi e quindi la distinzione che si vorrebbe fare e che ancora io ho fatto nella relatività ristretta tra sistemi inerziali e non inerziali è in realtà destituita di un fondamento filosofico, Einstein dice, usa due volte questa parola in questo lavoro e quindi ci sono ragioni cogenti di carattere di fondamenti che impongono di mettersi da questo punto di vista, dobbiamo lavorare a questo problema. Sulle obiezioni tecniche di Abraham nulla dice perché in effetti il problema non è risolto e lo sa benissimo, scrive, questa è famosa questa lettera di Einstein a Besso, non è datata ma deve essere dell'inizio circa, quindi quando è in corso la polemica su scienza, probabilmente perché ci si fa riferimento, i fisici hanno un'attitudine alquanto passiva sulla gravitazione, Abraham è quello che capisce la situazione meglio di tutti, spara con un maledetto contro di me, però la parola è meet first stand, capisce di che stiamo parlando, a differenza di molti altri che evidentemente non controllavano bene la cosa. Abraham risponde con un ulteriore intervento in cui è molto sprezzante, signori non stiamo mettendo le schede nell'urna per decidere chi è a favore e chi è contro, qui c'è un problema di inconsistenza sostanziale della teoria. Tra l'altro nella replica ad Abraham Einstein difende la prima versione della teoria della relatività ristretta enfatizzando in maniera anche lì eccessiva quella che lui dice l'evidenza empirica, quella è ormai confermata sperimentalmente, mica tanto, siamo a 1913, la questione è ancora anche dal punto di vista dei supporti sperimentali alle differenti formulazioni della teoria piuttosto fluida. Comunque, ultima, due minuti, con ultimo contributo poco citato perché non è un contributo originale ma è un bellissimo lavoro di rassegna di Abraham a questa questione e questa ponderosa rivisitazione critica dello stato dell'arte per quanto riguarda le teorie della gravitazione pubblicato sempre sull'Iarbuchte Radioactivität, arriva al dicembre 1914 il lavoro in redazione, quindi il riferimento qui è esplicito alle teorie tensoriali. Abraham fa una rassegna di tutte le teorie, comincia presentando le varie teorie scalari, la sua, quella di Nordstrom e Mir e altre, poi l'ultima parte del lavoro è teorie tensoriali ed è Einstein Grossman ed è divertente secondo me questa citazione perché dice che non sta in piedi, non ci sono difficoltà, ma è bello perché usa Mach contro Einstein. Abbiamo bisogno di questa orribile complicazione in cui ci sono dieci potenziali gravitazionali per formulare una teoria tensoriale e non ci riusciamo, ricordiamo al principio di economia di Mach e torniamo a parlare di teorie scalari perché sono più semplici e sostanzialmente aspettando che l'esperienza non dimostri che le teorie tensoriali sono sballate. In realtà tutto questo avviene nel giro di un anno la situazione sarà risolta perché succedono tutta una serie di cose sul fronte della produttività di Einstein che producono alla fine la formulazione generalmente covariante della teoria e quindi quello che sappiamo. Ma questa è particolarmente interessante, l'ultima cosa che Abraham produce sul problema con in più questa interessante lettera a Levi Civita, febbraio del 1915, in cui manda, dice a Levi Civita che ha detto a Einstein di mandare a Levi Civita i suoi lavori perché probabilmente Levi Civita è in grado di capirci qualcosa visto che lui il calco differenziale assoluto lo conosce bene e probabilmente può dare qualche suggerimento. È che io sappia il trade union che permette a Einstein di entrare in contatto diretto con Levi Civita, cosa che accade un mese dopo, Einstein manda effettivamente a Levi Civita i suoi lavori e comincia quella corrispondenza tra Einstein e Levi Civita che è uno dei passi cruciali che permettono a Einstein di arrivare pochi mesi dopo alla formulazione corretta della relatività generale. Di nuovo qui c'è dell'ironia della storia insomma, chi mette in contatto Einstein con Levi Civita fornendogli di fatto una chiave fondamentale per arrivare alla formulazione corretta della sua teoria è più feroce avversario della sua teoria che però è amico di Levi Civita e quindi con lui di suo tetto. Qui finisce se volete la parte Abraham in Italia e la relatività. C'è la fine della storia, che è la sofferenza che chiude questa felice convivenza. Siamo al 1915, è già in corso la guerra, c'è questa interessante lettera di Abraham alla Rosa in cui si capisce che il clima per un professore tedesco in una Italia che sta per entrare in guerra verosimilmente contro gli imperi centrali non è particolarmente felice e farebbe bello magari andare. Ci sono due notizioni interessanti, una è che Abraham dice alla Rosa che lo invita a venire a prendere la cattedra di meccanica razionale a Palermo. Sarei contento di venire lì perché so che con te ci capiamo, parliamo lo stesso linguaggio, tu da sperimentare, io da teori come sul terreno del... però A non mi sembra bello lasciare Milano perché a Milano mi trovo bene, in particolare il direttore ha un ottimo rapporto con Giuseppe Colombo, Abraham, e poi perché la situazione generale, che non nulla a discentire, la situazione politica, il clima generale è pesante, quindi meglio aspettare. In realtà c'è poco da aspettare, la storia è abbastanza nota, nell'aprile del 15 quando ormai in Italia diventa dominante la tendenza interventista che ha una fortissima componente sia tra i docenti che tra gli studenti del Politecnico di Milano, aizzata da un articolo mirato del popolo d'Italia dell'aprile del 15 che incita gli studenti a ribellarsi contro questo docente tetesco che invece di andare a combattere per la sua patria sta qui a fare probabilmente la spia in Italia di cui non abbiamo nessun viso, insomma le argomentazioni ben note contro la cultura germanica e quant'altro. Gli studenti protestano, succede un dita di Dio, Giuseppe Colombo tenta vanamente di trovare una mediazione ma non ci si riesce, di fatto ad Abraham viene chiesto, di fatto viene imposto, di andarsene per un po' affinché si calmino le acque, cosa che lui fa, se ne va in Svizzera, a Lugano, nel frattempo le acque non si calmano manco per niente perché l'Italia il 24 maggio entra in guerra, Abraham lascia Milano, lascia l'Italia, va di fatto in esilio in Svizzera, si sfoga con quasi l'unico amico che gli è rimasto in Italia che sa essere sulla sua lunghezza d'onda perché lei visibile è tutto meno che uno scatenato interventista, è uno dei pochi scienziati italiani che ancora dopo l'entrata in guerra continua ad essere ostile alla guerra esplicitamente e quindi Abraham sa di trovare una sponda non solo di un amico ma anche di un amico che la vede come lui su questa cosa e va bene, lascio le lettere, racconta quello che sta succedendo al Politecnico e esprime queste note dolenti su quello che sta succedendo, la guerra e quant'altro. Ultimissima notazione di Abraham su Einstein, ancora scrivendo a Levi Civita, due anni dopo, lui si occupa di tutt'altro a questo punto, si fa dei lavori di radiotelefonia per quanto riguarda dei servizi di guerra e poi non produce più scientificamente sulle questioni di cui abbiamo parlato, ma non resiste ancora la tentazione di notare che i lavori di Einstein proprio dal punto di vista matematico sono una catastrofe e sarebbe opportuno sottoporlo alla censura matematica preventiva. Pare vero il detto del Hilbert, la fisica per i fisici è troppo difficile. Fine della storia finisce qui purtroppo perché Abraham è ovviamente amareggiato e triste, è sempre più sfiduciato nei confronti dell'ambiente accademico tedesco, non crede che ci sia per lui alcuna possibilità di rientrare in Germania e invece quello che succede nel 1921 è che von Kármán, di cui si è parlato anche ieri, professore, direttore dell'Istituto di Aerotecnica di Aachen, si sta dando da fare per collocare Abraham sulla cattedra di meccanica razionale della sua università. Abraham è estremamente scettico perché non gli piace l'ambiente tedesco, ma in questo caso ha torto. Arrivano lettere di raccomandazione per lui inviate a von Kármán da personaggi del calibro di Hilbert, Planck, Einstein e Levi Civita, in particolare qui ho citato alcuni pezzi delle lettere di raccomandazione per Abraham scritte da Einstein e da Levi Civita, significativamente Einstein dice Abraham è una persona eccellente, non è in gran fisico però dal punto di vista matematico è veramente brillante e Levi Civita risprime le ben note cose. La cosa va in porto finalmente, l'Università di Aachen chiama Abraham alla fine del 1922 sulla cattedra di meccanica razionale e però la fine triste della storia è che andando verso la sua destinazione finale, Abraham è accolto da un incurabile tumore al cervello, muore nel giro di pochi mesi a Monaco di Baviera e non riesce mai neanche a vedere la cattedra che gli era finalmente stata quando come dicono a Borne von Laue nell'obituari finalmente la scienza tedesca aveva deciso di saldare il debito che da lungo tempo aveva contratto nei suoi confronti.